Stavo leggendo il libro di Harvey Ratner e colleghi Brief Coaching, dove proprio verso l'inizio dicono ma a nostro parere non c'è una grande differenza, anzi non c'è differenza tra quello che facciamo quando lavoriamo per fare coaching e quando lavoriamo per fare psicoterapia. Le pratiche sono le stesse e peraltro, sottolineo, le pratiche del coaching vengono spesso da concetti di psicologia, da pratiche, da studi di psicologia, se non proprio da elaborazioni di psicologi. Non è facile definire la differenza tra consulenza psicologica, psicoterapia, coaching, counseling, in questa cosa la definiamo, in base alle pratiche, in questo senso abbiamo visto, come l'esempio appena citato, che magari la pratica può essere la stessa e non è soltanto un'eccezione quella della terapia breve centrata sulla soluzione, anzi, spesso è la regola per molti tipi di terapie. La potremmo dirci che magari la differenza dipende dall'ambito clinico o non clinico. Una volta parlando con Michael Hoyt, Michael disse, la differenza, a mio parere, tra coaching e consulenza psicologica è che nel primo caso non si sta affrontando un tema clinico, nel secondo invece sì. Allora potrebbe essere questa la differenza, coaching non clinico, consulenza psicologica clinico magari non grave, e se invece andiamo nella gravità, psicopatologia, ci troviamo di fronte alla psicoterapia vera e propria. Però anche qui, chi definisce la gravità? In base a che termini definisci la gravità? La definisci in base, non lo so, se un problema rientra nelle categorie della diagnosi nosografica del DSM, allora la consideri un problema grave, complesso, come vuoi, e quindi quello che starai facendo con quella persona sarà psicoterapia. Però a questo punto una persona potrebbe venire con un problema di, I don't know, disturbo ossessivo-compulsivo di personalità e dirti io non voglio lavorare su un disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, ma voglio migliorare il mio rapporto con i colleghi. Allora non è più psicoterapia, state facendo consulenza psicologica o state facendo coaching, visto che non state in un ambito clinico. In più, chi decide che è l'aspetto nosografico della diagnosi nosografica da tenere in considerazione per valutare che tipo di lavoro si sta facendo? Perché uno psicodinamico ti potrebbe dire io non voglio tenere in considerazione la categoria diagnostica nosografica, ma l'organizzazione psicodinamica della persona. E terapeuti con diversi sistemi diagnostici di riferimento potrebbero dirti la stessa cosa, io non voglio tenere in considerazione quello, ma altro. E se lavoriamo con una famiglia? E se lavoriamo con una coppia? E se usare, anziché termini in inglese, usassimo termini in italiano? Perché anche nel momento in cui parliamo di counseling, sempre Michael Hoyton in un'altra occasione mi disse Flavio, se tu riesci a definire una differenza tra consulenza psicologica e psicoterapia, dimmela, perché io ho 40 anni di esperienza non ci sono riuscito. E quando lui parlava di consulenza psicologica, da americano, parlava in inglese, usava il termine counseling, ma si riferiva alla consulenza psicologica. E' una cosa diversa rispetto a quella che insegniamo e facciamo in Italia per alcuni aspetti. E non è necessariamente peggio, perché spesso diciamo ma all'estero fanno diverso, ma non vuol dire che qui da noi facciamo peggio. I nostri terapeuti non sono per niente male. Alessio una volta, un articolo di non mi ricordo chi, mi sembra Scott Miller, ma non ne sono sicuro, dove diceva molto spesso i terapeuti americani sono nella pre-storia della psicoterapia, per dire non hanno grandi skill. Insomma, dibattito lungo, consulenza psicologica o psicoterapia? Che stiamo facendo? Voi che ne pensate?